Officina Garage Voltolini a Borgo Valsugana. Vendita auto, assistenza meccanica, gommista, revisioni consorziato. L'officina Garage Voltolini in via Giovannelli 11 a Borgo Valsugana. Nuove risorse dalla provincia, in arrivo interventi sulle strade della Valsugana. Poco meno di 29 milioni di euro, destinati al piano degli investimenti per la viabilità in Trentino. Si tratta di risorse che derivano dalla manovra di assestamento 2018, in parte destinate anche alla sicurezza stradale, sia in alta che in bassa Valsugana. Prevista la realizzazione di barriere fono assolventi lungo la statale della Valsugana a Pergine, interventi di messa in sicurezza della viabilità sul territorio comunale di Castellivano, una nuova rotatoria a Caldonazzo e la sistemazione di un tratto della strada provinciale Monterovere. In arrivo lavori anche alla provinciale 65 nel comune di Roncegno Terme e la sistemazione del ponte Ceggio sulla provinciale panoramica della Valsugana.